Yamal, Hendrik e il Diz. Per qualità e anche esperienza metto il Diz al terzo posto. Quello che conosco di meno, ma perché ho visto meno partite, è sicuramente Hendrik. Gioca in un campionato diverso da quelli europei, ma grandissimo giocatore, anche perché se no Real Madrid non avrebbe fatto questo grandissimo investimento su di lui. Ad oggi metto Hendrik al secondo posto e Yamal al primo, perché è un ragazzo tanto, tanto giovane. Gioca in un Barcellona che non è più il Barcellona di una volta, ma sta dimostrando di essere un grandissimo talento.